Interpellanza firmata e presentata al sindaco di Gubbio Vittorio Fiorucci da parte del consigliere comunale di Gubbio, futura Jacopo Cicci, sullo stato di salute degli alberi nella parte bassa del parcheggio ex seminario recentemente riqualificata. I lavori di risistemazione dell'area avevano peraltro previsto, si legge nella nota, la messa a dimora di nuovi alberi, lo spostamento di alcuni ulivi secolari, contrapianti e ricollocamento di questi ai margini perimetrali dell'area stessa. Il consigliere Eugubino fa notare come successivamente all'inaugurazione del parcheggio gli alberi sembrano essere stati abbandonati a se stessi e il caldo estivo ha avuto conseguenze gravi sia su nuovi esemplari sia sugli ulivi secolari, tanto che oggi almeno sette dei nuovi alberi sono completamente secchi e gli ulivi secolari mostrano evidenti segni di sofferenza. Da qui l'interpellanza per sapere se l'amministrazione è a conoscenza di questa situazione che, oltre a rappresentare un danno ambientale, offre un'immagine non certo edificante numerosi visitatori, materializza un danno patrimoniale, uno sperpero di risorse pubbliche. Quindi se nel progetto di riqualificazione ci fosse in previsione un impianto di irrigazione a servire le zone verdi e per sapere se l'amministrazione ha intenzione di intervenire per salvare gli alberi rimasti e sostituire quelli ormai perduti e quindi quali azioni concrete si intendono adottare e con quali tempistiche.